Cari pellegrini, nel marzo del 1090 viene per la prima volta menzionato il famoso ospedale di Siena di Santa Maria della Scala. Questo fatto ci dà la possibilità di fare una riflessione in merito al rapporto tra cristianessimo e ammalati. Allora la prima riflessione da farsi è questa, che di fatto con il cristianessimo nascono gli ospedali. Infatti non a caso il primo ospedale viene indicato come quello di Santa Fabiola, una matrona romana che iniziò ad accogliere, convertitasi al cristianessimo, che iniziò ad accogliere gli ammalati nel suo palazzo e i suoi schiavi divennero di fatto degli infermieri antelitteram. Poi tutti i secoli della cristianità hanno sviluppato l'istituzione ospedaliera, poi abbiamo dei santi importanti, pensiamo solamente a San Giovanni di Dio per quanto riguarda l'ordine dei fate bene fratelli eccetera. Ecco perché il cristianessimo di fatto crea gli ospedali? Certo la medicina precede il cristianessimo stesso, basti pensare a Ippocrate, basti pensare al giuramento di Ippocrate eccetera, ma l'ammalato viene considerato nel cristianessimo in maniera anche nuova, nel senso che l'ammalato figura come una sorta di icona del Cristo sofferente e quindi è giusto che venga non solamente curato ma che venga anche adeguatamente accolto. Anzi, nello stesso concetto di cura, nello stesso concetto di cura, c'è questa dimensione dell'accoglienza, che è una dimensione fondamentale. D'altronde vedete, questo lo diciamo anche per quanto riguarda tutte le menzogne che si dicono in senso eutanasico, a favore dell'eutanasia, cioè quando per esempio si è soliti fare l'affermazione, fare questa affermazione, malattie inguaribili, meglio malattie incurabili, ecco non esistono malattie incurabili, possono esistere delle malattie da cui non si può guarire, ma anche nell'ambito delle malattie inguaribili bisogna sempre curare e quindi c'è sempre la curabilità in ogni stato, in ogni stato patologico e nella cura rientra anche l'accoglienza. Perché l'ammalato va accolto, perché l'ammalato va curato, perché l'ammalato è un'icona del Cristo sofferente, è un'immagine del Cristo sofferente, come d'altronde dice stesso Gesù nel Vangelo. E quindi da una parte ecco una riflessione importante in merito al fatto che il cristianesimo genera, crea, gli ospedali, le istituzioni ospedaliere. Ma c'è un'altra riflessione da farsi. Santa Maria della Scala è un ospedale bellissimo, nel senso che è un ospedale che è affrescato, cioè decisero di affrescarlo in maniera straordinariamente bella. E allora ecco l'altra riflessione da farsi. L'uomo ha bisogno della bellezza. E anche l'ammalato, in un certo qual modo, ha il diritto alla bellezza. Attraverso la bellezza l'anima si rigenera. Attraverso la bellezza, ovviamente, quando è vera bellezza, l'anima si eleva, l'anima si avvicina a Dio, perché ogni vera, autentica bellezza è sempre segno di una nostalgia del divino. E allora i secoli della cristianità non solo ci hanno detto l'ammalato va accolto, va curato nelle istituzioni ospedaliere, ma queste istituzioni ospedaliere devono essere anche belle, perché è giusto che l'ammalato, che sta offrendo o dovrebbe offrire le sue sofferenze, a beneficio dell'intera umanità, della sua anima e dell'intera umanità, partecipando all'azione redentiva e sofferente di nostro Signore Gesù Cristo, come dice San Paolo, è giusto che l'ammalato possa beneficiare della bellezza. Ecco, a conclusione mi viene da pensare a quello che volle anche San Pio da Petalcina, quando San Pio da Petalcina decise con le offerte che arrivavano a lui da tutto il mondo di costruire Casa Sollivo della Sofferenza e quando andò a inaugurare Casa Sollivo della Sofferenza disse a coloro i quali amministravano quell'ospedale, agli infermieri, ai dottori, dice mi raccomando che non manchino mai dei fiori belli e freschi lungo i corridoi di questo ospedale. Il fiore è un condensato di magnificenza, è un condensato di bellezza, perché l'ammalato ha il diritto di essere curato anche attraverso la contemplazione della bellezza, perché Dio è somma bellezza. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo video. Vi ricordo che Dio è verità, bontà e bellezza.